Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli, ha eseguito un provvedimento cautelare che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dei rappresentanti legali di due centri diagnostici e la misura interdittiva dell'esercizio dell'attività per un anno nei confronti di due medici convenzionati con l'ASNapoli 1 Centro. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica Partenopea scaturiscono da una denuncia presentata dalla stessa ASNapoli 1 Centro e sono state condotte dalle fiamme gialle del secondo nucleo operativo metropolitano, che hanno scoperto un'associazione per delinquere finalizzata alla truffa che, falsificando le prescrizioni mediche di esami diagnostici, otteneva indebiti di imborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale. I rappresentanti legali sono padre e figlio residenti a Napoli e i medici operano in strutture sanitarie del capoluogo. Il meccanismo architettato consisteva nella prescrizione di costosi esami diagnostici di laboratorio in codice di esenzione nei confronti di soggetti che di fatto erano totalmente ignari delle prescrizioni al loro nome. In questo modo i due laboratori potevano chiedere fraudolentemente il riborso delle somme a carico del Servizio Sanitario Nazionale per esami diagnostici in realtà mai eseguiti. Sono stati sentiti in atti oltre 100 pazienti i quali hanno disconosciuto le prescrizioni al loro nome e persino affermato in molti casi di non essersi mai recati presso quei centri diagnostici. Le prescrizioni sanitarie esaminate hanno permesso ai due laboratori di analisi di richiedere ed ottenere un indebito di imborso pari a oltre 58.000 euro per cui la Guardia di Finanza ha potuto procedere a sequestri per valore equivalente a carico degli indagati.